Oltre 1.300.000 euro per sostenere i 129 progetti ammessi a finanziamento con altri 5 in rampa di lancio in caso di implementazione delle risorse o economie di spesa. È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria la graudatoria definitiva degli interventi a favore del settore apicoltura per l'annualità 2023 riservato a ipicoltori e imprenditori apistici con sede legale in Calabria e sostenuto con uno stanziamento nel complesso pari a 1.353.857,53 euro rinvenienti dall'attuazione del Regolamento Unione Europea. 2021 e da diversi decreti ministeriali in aumento rispetto al passato. Di concerto con le organizzazioni di categoria, conferma l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, siamo riusciti ad ottenere maggiore attenzione, forti anche dei numeri che testimoniano la forza e le potenzialità di un settore in costante crescita. Puntiamo, dice l'assessore Gallo, a valorizzare e a promuovere il patrimonio apistico regionale, così contribuendo anche alla tutela dell'ecosistema di cui le api sono sentinelle e custodi. La Calabria dell'arresto è terra vocata all'ipicoltura, terza regione d'Italia per numero di alveari 132, 1290, quarta per produzione di miele.